La Costituzione italiana arriva sui banchi delle scuole toscane affinché gli studenti la possano studiare e conoscere capendone i valori e gli ideali di democrazia, libertà e solidarietà alle pari opportunità, l'inclusione sociale e il pluralismo culturale. Per questi motivi è stato firmato un protocollo a ridosso del 25 aprile, festa nazionale della liberazione dal nazifascismo. Perché è importante far studiare ai ragazzi la Costituzione? Perché la Costituzione è la base del sistema dei valori della nostra comunità e la Costituzione ha una genesi, nasce da ciò che accadde 76 anni fa, proprio fra pochi giorni sarà il 25 aprile, il giorno della liberazione, il giorno della fine della seconda guerra mondiale e sui valori che portarono l'Italia a francarsi da quello che era il fascismo e poi il nazifascismo, riuscendo a trovare una strada che consentì con la Costituzione di fondare il nostro ordinamento su principi di libertà, democrazia, solidarietà, rispetto dei diritti civili, sociali. Noi vogliamo trasmettere il senso della memoria ai giovani. Tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'intesa lavoreranno assieme alla promozione di percorsi per la riscoperta dei luoghi della memoria e per divulgare i valori su cui si fonda la Costituzione italiana. La scuola è il luogo per l'eccellenza dove si formano le cittadine e i cittadini del presente e del futuro. Io voglio ringraziare l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Ampi, per la sollecitazione a prodigarci in questo senso e ovviamente tutti i soggetti che hanno deciso di aderire e di raccogliere il nostro invito a partire dall'ufficio scolastico regionale, l'Università Toscana, il Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema, gli istituti storici della resistenza sul territorio toscano, il Museo della Deportazione di Prato, la Domus Mazziniana, Anci e Upi, perché io credo che tutti insieme davvero abbiamo un po' il dovere di tenere viva la memoria ma soprattutto di far conoscere e valorizzare anche di attualizzare quegli articoli così importanti che sono scritti nella nostra carta costituzionale. Grazie.